Il volo di Soverato si appresta ad affrontare il primo dei due impegni consecutivi casalinghi, domenica al Palascop arriva il fanalino di Coda Caserta, un Soverato che deve riprendere la marcia dopo la brusca frenata in quel di Ravenna. Coach Barbieri? Sì, venivamo da una bella vittoria con Olbia e eravamo convinti di poter far punti, abbiamo giocato bene due set, poi effettivamente siamo un po' crollati. Sì, giochiamo con Caserta che con tutto rispetto per loro non è una squadra difficile sotto l'aspetto tecnico ma sotto l'aspetto mentale perché siamo costretti come tutti a far punti e a dover vincere per forza. Perciò mentalmente non è una partita facile da affrontare però a Remori dall'ottima prestazione dell'andata siamo convinti di poter far bene, dobbiamo comunque far punti per rimanere nella posizione che siamo che vorrebbe dire play-off. Un Soverato che nelle ultime settimane praticamente ha invertito la tendenza, sin qui più positivo fuori casa, nelle ultime due settimane sono arrivate due sconfitte consecutive esterne nel mezzo alla vittoria con Olbia nel turno infrasettimanale, un Soverato che quindi in queste due partite casalinghi deve cercare di ottenere il massimo per rafforzare la propria posizione nella griglia play-off e possibilmente cercare di migliorarla. Sì sicuramente abbiamo un po' questo problema qua di questo fatidico quarto sette, cioè il quarto sette effettivamente cediamo un po' troppo che siamo un po' in casa fuori, allora abbiamo parlato, abbiamo cercato di lavorare fisicamente, abbiamo cercato di ritrovarci anche mentalmente, perciò siamo convinti che adesso comunque la marcia c'è, la squadra c'è, siamo convinti di poter fare bene. Logico che prima si arriva nei play-off e prima si può anche mentalmente mettere la testa, prepararsi fisicamente per quello, perché comunque i play-off vanno preparati. Abbiamo queste due opportunità che se dovessimo mettere in cantiere punti possono già spianarci la strada. Ecco, una squadra che sta lavorando duramente sotto il profilo anche fisico durante questa settimana di allenamenti, ma le ultime partite giocate danno più l'idea di una squadra che probabilmente ha più in questo momento un problema, tra virgolette, mentale che fisico, nel senso che magari parte bene e poi alla prima difficoltà cala un po' di rendimento. Abbiamo visto anche nelle ultime due trasferte, primo set vinto e poi sconfitte per 3-1. La disamina è perfetta. Noi abbiamo avuto questa situazione un po' dall'inizio, poi siamo cresciuti, ma effettivamente è vero, questo fatidico quarto set sembra che lo perdiamo un po' più per la testa che con tutto rispetto degli avversari che come sempre hanno i loro meriti. Comunque, ripeto, ci stiamo lavorando, stiamo parlando con le ragazze, loro hanno grande disponibilità a capire quali sono gli errori e questo secondo me può portare a una situazione poi di play-off molto importante, perché quando le ragazze capiscono l'errore, ci lavorano su quotidianamente e quando poi la posta in paglio sarà decisiva, penso che ci faremo trovare pronti perché le ragazze hanno invece grandi qualità tecniche e le fanno vedere ogni domenica.